colleghiamoci con carlo alberto de casa carlo ci sei un giorno e buona settimana ciao buongiorno carlo buongiorno bene allora io partirei con carlo con il gold la rottura del gold che c'è stata c'è stata questa rottura di un massimo poi il mercato è tornato indietro è vero o falso bella domanda è un po quello che si stanno chiedendo gli operatori sui mercati e già venerdì è arrivata questa questa domanda venerdì sembrava cosa fatta ormai diciamolo per quanto riguarda la seduta della settimana scorsa sembrava che la resistenza 1261 1264 avessero mai ceduto venti di guerra e le tensioni geopolitica hanno fatto sì che il gold schizzasse senza grandi problemi sopra questi valori dopodiché il mercato un po pesato in maniera diversa la situazione dopo questi massimi a 1271 siamo scesi col gold che ha disegnato sul quattro ore lo vediamo in maniera chiara una candela ribassista di una candela che annulla un po questo segnale diciamo che ci vuole a questo punto una nuova accelerazione un nuovo ritorno sopra questi valori però non è cambiato non è cambiato nulla perché se guardiamo il trend appare ancora impostato al rialzo e la struttura generale per quanto riguarda l'oro ancora positiva con soprattutto finché le quotazioni restano sopra i 1250 non vedo nessun segnale di pericolo sotto i 1250 qualche primo dubbio vedrei un po più di tensione sotto i 1240 quindi la primavera al campanello d'allarme mi si accende con un gol sotto i 1240 finché tiene i 1250 sono le possibilità di un nuovo ritorno sopra questi valori sono sono elevate non dimentichiamoci giuseppe di cosa sta capitando sull'euro dollaro perché di fatto abbiamo comunque un euro dollaro che non è più a 1 8 ma a 1 0 6 col gol perché ha tenuto 1250 nonostante un euro dollaro forte c'è un euro dollaro forte un contro l'euro ecco dollaro forte contro l'euro ma il gold non scende e solitamente c'è questa correlazione inversa che tutti conosciamo di fatto questo mi fa capire che il gol sta aspettando la prima la prima correzione del dollaro per provare a riaffacciarsi verso i 1260 da un lato probabilistico direi che c'è un 70 per cento di vedere il gold nuovamente ai 1260 in tempi abbastanza rapidi come detto la prima discesa sotto i 1240 1250 il primissimo campanello da là 1240 un po di più e l'unica vera e propria inversione sotto quota 1200 ma siamo ben lontani ben lungi dai 1200 va bene allora carlo volevo chiederti quella anomalia quella rottura dei 1253 è stata anomala è arrivata con le scala l'acquirsi della tensione anzi l'acquirsi della tensione con i missili che sono stati lanciati dagli stati uniti nei confronti della base siriana oggi 1264 parli 1264 oggi poi un'altra diciamo sì nel weekend abbiamo sentito della notizia dell'avvicinarsi della porta aerea americana in acque dell'oceano pacifico prossime a quella che è la corea del nord perché loro quindi non ha risentito di queste notizie solo per effetto della debolezza della forza del dollaro mi farei una domanda molto interessante di nuovo perché di fatto la o il mercato ipotizza che anche la le questioni le questioni con la siria sia stata una sorta di giusto per trump far vedere che ha fatto qualcosa dall'altra la russia per poter dire ecco noi siamo siamo attaccati c'è un o il mercato ipotizza uno scenario del genere che sia tutto finito su questi valori quindi non ci sono non veda particolari rischi non veda nulla di clamoroso all'orizzonte non veda altre reazioni però di per sé lo scenario con anche la questione degli attentati nell'ultimo nell'ultimo periodo abbiamo avuto purtroppo londra abbiamo avuto stoccolma l'egitto questo weekend la domenica delle palme ecco lo scenario non è uno scenario particolarmente tranquillo tutto ciò non giustificherebbe cioè tutto questo giustificherebbe nuove salite da parte del gold come bene rifugio però abbiamo visto che dal abbiamo visto più volte loro andare contro quelle che erano le aspettative dei mercati l'abbiamo visto anche con trump e non dimentichiamoci che proprio su questi valori loro si trova a dover affrontare una almeno una duplice sfida almeno duplice se mi se sei d'accordo giuseppe perché da un lato c'è la resistenza statica le resistenze statiche 1261 1264 quindi sui massimi delle precedenti settimane 1261 1264 e a questo punto anche 1271 raggiunto venerdì dall'altra se noi uniamo i massimi la serie di massimi decrescenti raggiunti nell'estate 2016 quindi dai 1.375 del post brexit se c'è quella quella trend line non so se riusciamo a farlo vedere agli amici da casa in grafica uniamo i massimi decrescenti dell'estate 2016 grosso modo siamo sull'area 1.270 1.275 quindi c'è dal punto anche dal punto di vista tecnico cioè se ci sono resistenze sia dinamiche che statiche che vanno a frenare vanno a concentrare il volume in vendita su questi valori ecco passata all'area 1.265 1.270 non vedrai grandi ostacoli per loro eccezione fatta per la forza del dollaro ma non vedrai grandi ostacoli per loro per un nuovo tentativo di risalita verso il 1.300 la la mia view sul metallo prezioso ancora positiva per quanto riguarda la seconda metà del 2017 anche se ci troviamo uno scenario dove di fatto la produzione supera la domanda e tu potresti chiedermi ma come se c'è non c'è uno scenario di deficit ma c'è un scenario di surplus come mai capita questo e potrei risponderti che nel 2016 c'è stata la stessa situazione ma la domanda che arriva dal loro cartaceo dal loro finanziario non dal loro fisico va a compensare quello che invece lo scenario del loro fisico dove la gioielleria soprattutto dopo la demonetizzazione indiana è calata la domanda delle banche centrali nel 2016 non è stata come quella degli anni precedenti però arriva la domanda degli investimenti arrivano gli etf arriva una serie di componenti che spingono il loro cartaceo a rimediare quella che è un po' il deficit che stiamo invece vedendo sul fisico interessantissimo anche il silver perché solitamente giuseppe solitamente ci eravamo abituati a un a un argento molto più reattivo rispetto all'oro sai bene che di fatto quando parliamo di oro argento loro contiene un po di più le proprie emozioni l'argento tende a essere un po più puerile un po più giovanile un po più reattivo istintivo e invece ci siamo trovati con un argento che intorno ai massimi a 18 45 18 50 anzi poco sotto 18 50 si è fermato sui massimi toccati il mese prima quindi non ce l'ha fatta aggiornare nuovi massimi loro invece già schizzato sopra il 1.270 mentre l'argento si è contenuto quindi l'argento ha disegnato quello che in gergo sembra essere un doppio massimo abbastanza gradevole da vedere seppur solo con lo shadow perché i colpi delle candele sono un pochino più in basso rispetto a quelli toccati un mese fa ecco per l'argento siamo già decisamente più lontani argento a 17 90 quindi 50 centesimi abbondanti sotto i massimi tre punti percentuali in grosso modo e invece loro tiene a poco più di un punto questo in qualche modo testimona la reattività maggiore dell'argento va bene allora andiamo un altro tema caldo che è quello della sterlina la pressione verso il basso che c'è stata nella seduta di venerdì secondo te proseguirà o parlo di sterlina dollaro perché poi invece su euro sterlina è già rientrata proseguirà secondo te carlo ma allora per quanto riguarda il cable il mercato ha trovato una prima area di supporto a 1 23 7 sta provando a tenere ma su questi valori ma siamo abbastanza in supporto abbastanza debolino la gli scenari chiaramente sono ancora legati alle vicende della brexit la news del weekend al ritorno in pista di gina miller quindi la donna che ha portato la brexit in trincolta in tribunale battendo la battendo teresa mei qualche mese fa rientra in pista per cercare di frenare la brexit ecco un po questi questi scenari capire quello che sarà il proseguo della brexit arbrex e soft brexit restano ancora cruciali dal punto di vista tecnico se mi chiedi quello che capita sulla sterlina ti tenderei a dire che il quadro di fondo è ancora relativamente negativo se guardo il cable siamo purtroppo lo vediamo bene lo vediamo bene dal punto di vista grafico sono stati erotti i minimi in area 1 24 che che erano stati raggiunti un paio di settimane fa quindi questo testimonio una certa debolezza gli ultimi tre massimi sono massimi decrescenti quindi il quadro è quello di una debolezza perché c'è un dollaro forte perché la stellina sta vivendo tutti gli scenari che conosciamo resta però valido quello che abbiamo visto da metà marzo in poi con il mercato che ha interpretato il meeting del 15 di marzo della federal reserve come un meeting da colomba da parte di janet jelen mentre invece ha apprezzato questo 8 a 1 questo 8 a 1 della bank of englander come uno scenario in qualche modo non non da falco perché non possiamo parlare di falco della bank of england ci mancherebbe ha ritagliato i tassi soltanto otto mesi fa però al mercato della capito che la bank of england verosimilmente non taglierà ulteriormente i tassi di interesse ma la prossima mossa potrebbe essere al rialzo bene allora carlo c'è questo sono le elezioni francesi di secondo te tutto scontato ma guarda ne parlavamo all'evento di attrades venerdì con sovero berlinzani giovanni con i verti che saluto e devo dirti che sei stato protagonista venerdì non so se lo sai a torino non c'eri ma sei stato protagonista perché abbiamo cercato scusa questa scusa mi sei divagato no no sei stato stato acclamato dalle folle piemontesi perché abbiamo seguito il non fan payroll e cercando di fare una telecronaca alla giuseppe di vittorio sai c'è un po il gol in zona cesarini e c'è la telecronaca dei dati di borsa alla giuseppe di vittorio abbiamo provato in tua assenza a renderti comunque protagonista ti farò vedere un video agli amici di le fonti tv e a giuseppe di vittorio tornando al tema centrale della domanda il mercato sta apprezzando sta apprezzando come abbastanza probabile una vittoria di macrona quindi posso anche darti le quote di amore diamo le quote in diretta perdona 30 secondi perché devo dirti che mea colpa non le avevo aperte in dall'italia il pelo della diretta ecco è leggermente risalito quindi qual è leggero recupero di marine le pen perché macrone ha pagato quattro settimi vuol dire che ha pagato 1 60 adesso ha pagato otto undicesimi otto undicesimi e un 1 e 70 1 75 gli si dà ancora un buon 60 per cento di possibilità di vittoria marine le pen scende da 4 a 3 e mezzo grosso modo però 4 3 e mezzo vuol dire 3 e mezzo come calcoliamo le probabilità così divariamo di nuovo nuovamente 3 e mezzo vuol dire che dobbiamo andare a dividere 1 per 3 e mezzo lo facciamo in diretta con voi con una calcolatrice 1 diviso 3.5 otteniamo 0 28 togliamo quella che la quota del boom maker sarà un 26 per cento siamo passati da un 23 24 per cento da settimana scorsa a un 26 più o meno che sono le probabilità che le quote di le case scommessa danno di vittoria per la marine le pen calcoliamo velocemente anche quelle di macron 8 undicesimi 1 diviso 1.72 e otteniamo un 58 quindi danno poco meno del 60 per cento ecco questa è quella quotazione che viene data al mercato con filona sul 20 per cento e melanchon un decimo quasi rilevante 7 8 per cento le possibilità che sia lui il vincitore ricordiamo anche le date 23 aprile e 7 maggio ecco nel caso di io penso che chiaramente la stellina guarda da da spettatrice interessata perché una ci è parlato poco di questo ma in qualche modo lo regno unito si è capito che non non dispiacerebbe una sola nuove non dispiacerebbe nuove problematiche sul lato europeo perché perché renderebbe un'eropa meno compatta anche nelle negoziazioni contro lo regno unito e quindi la stellina è spettatrice interessata chiaramente non è spettatrice ma non è spettatore ma è protagonista vero e proprio l'euro e questa discesa della settimana scorsa della valuta unica arriva in primis dalle parole di mario draghi che è andato a dire che i tassi rimarranno bassi ancora lungo quindi ha rassicurato il mercato poi c'è stata la discesa dopo i dati sull'inflazione che hanno portato dal 56 al 24 per cento la possibilità di rialzo dei tassi a dicembre ma anche le avvicinarsi delle elezioni francesi ormai manca davvero poco questo in qualche modo spaventa ai mercati scusami carlo anche i dati sulla produzione industriale non sono stati buoni esattamente esattamente anche questo a complicare lo scenario quindi un'europa ancora in balia dei dati elettorali e anche della degli scenari inflattivi allora carlo riveliamo una cosa e io ti ho fatto una proposta per messaggino la mia proposta era di valutare di fare creare una pariti ppp la e ppi la chiamano gli operatori sui mercati non solo il pari tipa e index pariti per index e cioè secondo te costruiamo ma il mio invito lo raccogli oppure loro dei clini chiaramente chiaramente non anzi questa domanda non mi fa in bestia lì è chiaramente un invito di giuseppe di vittorio non non va mai lasciato perdere no 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 è già è già stato raccolto non ti ho risposto perché ho passato il weekend a pensare io ti devo dire che allora fai la domanda che ti rispondo allora mi dispiace a pensare quale poteva essere questo bene però tu sei un trasfrontaliere diciamo la verità perché fai spesso riunito e io non penso che non immagini questa cosa me la compro più di qui o me la compro più di lì anche se secondo me oggi un ppi un pariti per index efficace è quello online perché la gente può comprare io noto che gli iphone la gente compra un po esattamente esattamente quindi formulando la tua proposta era quella di cercare di creare un indice con un bene sinteti un bene di sintesi un bene importante e capire quello che è un po l'andamento del prezzo in europa e nel regno unito ecco di fare un attimo carlo volevo spiegare anche al pubblico al interi spettatori agli amici che ci seguono quali spettatori gli amici che ci seguono da casa perché noi ci costruiamo questo aggeggio ci costruiamo questo aggeggio perché così troviamo quali sono i valori un valore fondamentale della valuta mentre su un'azione il valore fondamentale di una valuta è data al rendimento nel caso delle valute uno dei metodi di valutazione è proprio calcolare se una cosa costa di meno in un posto ovviamente tutti la vanno a comprare a quel posto quindi comprano quella valuta e quindi il tasso di cambio tende a salire ecco perché ci costruiremo questa aggeggio adesso l'ho buttata lì poi magari saremo anche più precisi l'iphone carlo può essere un bene di questo tipo vai allora devo dirti che mi hai messo in buona difficoltà perché hai proposto l'iphone però non tendere a rispondere in maniera negativa perché non non so se seguito ma dopo la brexit nella seconda parte del 2016 tutte le grandi aziende microsoft apple hanno aumentato i prezzi dei beni informatici fra cui prima apple e microsoft l'ultima fra 15 e il 20 per cento nella seconda parte del 2016 quindi di fatto ci troviamo in un mercato che ha già scontato ha già scontato no quindi questo potrebbe essere un po una limitazione che creiamo un un paniere che non va un paniere con un bene un bene singolo che non va nessun modo a vedere la brexit avevo pensato alla benzina che è un po però chiaramente non ha non è così sexy come parlare del dell'apple l'altra cosa che poteva essere interessante a riprendere quel vecchio paniere che avevamo costruito di una ventina di beni fare una media dei loro prezzi dare un valore 100 visto che io questi 20 beni al mese di aprile dell'anno scorso il prezzo di questi beni di un anno fa fare un bagno un paniere che vale 100 alla brexit e vedere di mese in mese quanto varia questa è l'altra cosa che avevo pensato ecco posso dirti che sono tornato ieri dall'italia visto che la torino nel weekend per l'evento dati 3 con la valigia piena di beni alimentari però se chiaramente se andiamo sui beni alimentari l'italia vince a mani basse in mi ricordo un finito d'opero ma posso dirti che buona parte degli degli italiani che fanno la spola fra l'italia e il regno unito tornano con con le valigie piene di alimentari anche perché su alcuni cibi può essere la pasta di marca o i biscotti o i biscotti di ammunino bianco non lo so magari qua sono difficili a trovare e costano fra il doppio e il triplo ma posso dirti questo visto ho visto il prezzo del gelato del gelato in italia che era fra le due volte fra le due e tre volte più basso di quello di londra allora diciamo la verità che dal punto di vista fondamentale l'euro è sottovalutato tendere a dirti di sì anche perché l'euro deve anche la sterlina deve uscire da questo quantità di visi ma avranno le vicende brexit che come teresa mei ci ha messo in luce non si chiudono nel giro di due anni e dall'altra l'euro invece con la situazione della germania con i buoni dati della germania sì c'è stata la frenata all'inflazione ma non rimaniamo troppo a lungo in questo quantità di visi e coi tassi così non è una cosa che può che possiamo pensare debba durare altri due tre quattro anni i tassi non verranno alzati verosimilmente quest'anno però se non è quest'anno si parla di inizio dell'anno prossimo per rialzo dei tassi o quantomeno per un'ulteriore riduzione del quantità di visi quindi un euro 1,05 sono in molti a credere che col dollaro possa in qualche modo vista anche le politiche di protezionismo di donald trump anni con gli annessi e connessi perché sai meglio di me che un protezionismo il protezionismo di trump con l'euro di con l'euro dollaro 0 90 non va da nessuna parte da trump non vuole importare ma vuole esportare se l'euro dollaro va sotto la parità questo non riesce a esportare e gli conviene importare quindi sai il mo è un mondo è un mondo strano è un mondo mille domande è un mondo difficile sì ecco carlo però qualcosa di storico sta avvenendo da questo punto di visto perché noi nella storia della finanza internazionale abbiamo visto sempre una bank of England una boe al trailo della federal reserve sia nelle fasi di ascesa dei tassi di interesse che nelle fasi di discesa dei tassi di interesse quindi questa brexit è qualcosa di epocale è qualcosa di straordinario perché la banca centrale americana è ormai è già al quarto quinto rialzo al quarto rialzo 0 75 l'1 per cento quindi al quarto rialzo dei tassi o terzo se si considera la forchetta 0 25 e invece bank of England è rimasta lì anche se partiva da un livello più alto sì questa brexit probabilmente non rappresenta un piccolo passo per l'uomo non rappresenta un grande passo per l'umanità questo lo lasceremo giudicare alla storia però sicuramente rappresenta un pezzettino di storia questo è fuori discussione che sia in qualche modo un evento storico ma io sono guarda la maggioranza degli analisti si aspetta un rialzo della bank of England nel 2017 nel 2018 scusami quindi attende fra un annetto scarso il primo rialzo dei tassi di interesse da parte da bank of England io sono fermamente convinto del fatto che la bank of England sarebbe già pronta e vogliosa di farlo nuovamente per poter tagliare se necessario quindi non me ne stupirei lo facessero già quest'anno per dare un segnale al mercato l'unica cosa che li blocca è il mercato immobiliare perché nel momento in cui questi dovessero fare non un rialzo dei tassi uno no ma se già parlassimo di te rialzi tornare verso l'uno per cento sai qui non c'è il tasso il tasso fisso il tasso è fisso due a cinque anni quindi chi ha il mutuo trentennale ogni rialzo a 0 25 lo sente lo sente come e quindi si trovano in un sistema dove la cartellizzazione del debito è elevata anche per quanto riguarda l'immobiliare le case ancora so tanto questo 60 per cento che ha fatto l'onda potrebbe vanisce potrebbe evaporare in maniera abbastanza rapida non tutto il 60 per cento ma una buona metà quindi se i tassi restano bassi c'è la possibilità che le case i prezzi delle case calino in maniera anche più lenta determinando meno scossoni per per il regno unito questo è un po lo scenario che vedo quindi la bank of indian che ha voglia di alzare ma al momento è cauta soprattutto per l'aspetto immobiliare carlo ci sono appuntamenti che vuoi segnalare di active trades per guarda e chiuderei ringraziando saverio giovanni benelzani giovanni cuneberti che erano a torino e dove abbiamo fatto il pienone ringraziare darei l'appuntamento a milano quindi non ci spostiamo di tanto solo un centinaio di chilometri più a est l'undici maggio a milano e poi rimini rimini con altri trezzi come sempre in prima fila ma attenzione perché potrebbe esserci una sorpresa proprio insieme con con le fonti per seguire quella che sarà la che saranno le elezioni francesi l'annunciamo la settimana prossima va bene va bene va bene se hanno un annuncio in diretta tv benissimo e allora le elezioni francesi assolutamente massima attenzione e va bene carlo grazie carlo buon trading a tutti grazie a te una giornata anche a voi grazie a tutti Grazie a tutti.